Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City e il signor Nicola, il primo paziente dell'RSA Vila del Sole di Torre del Greco ad essere stato vaccinato. Parte proprio da questa struttura, la campagna vaccinale torrese per i pazienti operatori RSA. Consueto Covid nel Vesuviano, registrati gli rettori del Greco 26 nuovi casi positivi, 20 le guarigioni certificate. Un'enorme voragine al parcheggio dell'ospedale del mare di Napoli, il boato alle prime luci dell'alba, un solco di circa 20 metri che ha inghiottito alcune macchine parcheggiate. Una sfida di modernità per il liceo Gaetano De Bottis di Torre del Greco che durante l'open day virtuale del 16 e 17 gennaio presenterà la nuova offerta formativa che vedrà l'introduzione di due nuovi indirizzi. Chiudiamo con la Turris che domenica alle 15 affronterà il Bari. I corallini cercano l'impresa al San Nicola. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Nicola, ordinatore, 9546, erano qua giuncini. Poi ci fanno 30 anni i servizi. Chi me lo ha da pagare. Mi trovo bene perché qua dentro di un mal livello nessuno è superiore a nato. Ognuno controlla la sua stanza nuova. Tra i personaggi e i servizi è una cosa. Nessuno superiore a nato è stato nuova. E il signor Nicola, il primo paziente della RSA Villa del Sole ad essere stato vaccinato. Somministrata alle 12.08 la prima dose del farmaco anti-covid presso la struttura, dove oggi è partita la campagna vaccinale per pazienti ed operatori. Un segnale importante che arriva dalla categoria più esposta e colpita dall'emergenza sanitaria. Per noi oggi è il primo spiraglio di luce dopo mesi difficili. Come rappresentante di Villa del Sole ci tengo a ringraziare la direzione generale dell'ASNapoli 3 Sud, l'amministrazione comunale, quindi il sindaco, l'avvocato Giovanni Palomba e tutti quegli enti e quegli organi che ci sono stati vicini in questi mesi comunque bui. Oggi per noi è un giorno importante, è un giorno che segna la rinascita, la ripartenza. Noi ricominciamo a fare il nostro lavoro, quello che svolgiamo sul territorio da 24 anni. Speriamo che con questa campagna vaccinale odierna tutto possa ritornare alla normalità al più presto. Sono stati mesi difficili, abbiamo combattuto una battaglia dalla quale non ne sono usciti né vinti né vincitori. Abbiamo soltanto la consapevolezza che dobbiamo lottare tutti insieme e tutti uniti, altrimenti da soli non andiamo da nessuna parte. Abbiamo il vaccino e in tempi rapidissimi abbiamo cominciato a somministrarlo a tutte le strutture per l'anziani dell'ASNapoli 3 Sud. Nel giro di 4-5 giorni già oltre il 50% delle strutture è stato sottoposto a vaccino. All'interno delle strutture abbiamo avuto una lesione massiva. Tutti gli anziani e il 95% degli operatori hanno chiesto di essere vaccinati e sono stati vaccinati. Nel giro delle ultime ore proprio altre strutture si sono aggiunte e hanno chiesto di essere sottoposte a vaccino. Nel giro di 8-10 giorni contiamo di vaccinare tutte le strutture per anziani dell'ASNapoli 3 Sud. Prime dosi del vaccino Pfizer qui alla Villa del Sole, un segnale importante che parte proprio dalle RSA. Gli anziani sono le persone che sono state più colpite e il vaccino inizia a dare speranza agli anziani che sono qui, dimorano qui in questa struttura ed è quello che è l'inizio della luce di un tunnel che speriamo quanto prima di far sì che questo tunnel diventa solo ed esclusivamente luce e non più un buio. Secondo giorno di zona gialla rafforzata in Italia. Resteranno in vigore anche oggi le misure previste ieri. Sarà dunque consentito muoversi e censione fatta per gli spostamenti tra le regioni. Da domani si ritornerà invece in zona arancione, mentre da lunedì lo stivale sarà di nuovo diviso in zone. Frattanto si registra un lieve rialzo della curva dei contagi in Campania. A Torre del Greco attestati 26 casi positivi e 29 guarigioni. Ad annunciarlo il consueto aggiornamento quotidiano del centro operativo comunale. Per fortuna non si registrano decessi, ma i numeri continuano a restare stabili da settimana. 34 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore nel comune di Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 30 guarigioni. Sale a 140 il numero di cittadini attualmente positivi nel comune Plontino. 132 posti in isolamento domiciliare e 8 ricoverati. Un miglioramento si registra invece ad Ercolano. La curva dei positivi, fa sapere il primo cittadino Ciro Bonaiuto, è in discesa e questo mi fa tirare un sospiro di sollievo, anche se, come ricordo sempre, non bisogna abbassare la guardia. Sono 414 attualmente positivi a fronte di 1.558 guariti a partire dall'inizio della seconda ondata. Il boato è stato avvertito tra le 6.30 e le 6.45 all'interno dell'area parcheggio dell'ospedale del mare di Ponticelli, quartiere di Napoli Est. È stato determinato da un'implosione che ha generato una voragine di circa 2.000 metri quadrati per una profondità di circa 20 metri. Il solco ha inghiottito alcune auto dei dipendenti, ma fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Nelle vicinanze il Covid Residence, che è stato prontamente evacuato, sul posto è immediato l'intervento dei vigili del fuoco. In una nota l'AS Napoli 1 esclude la natura dolosa della voragine che si è aperta nel parcheggio. In tutto l'ospedale del mare, al momento, è stata interrotta l'alimentazione elettrica, ma il presidio è alimentato da fonti esterne che garantiscono l'operatività della struttura. Vorrei tranquillizzare tutti, rassicura il direttore generale dell'azienda sanitaria locale Ciro Verdo Liva. L'ospedale è perfettamente funzionante. Con molta probabilità dovremo chiudere il Covid Residence per la messa in sicurezza della struttura, priva di corrente e acqua calda, e i sei ospiti presenti verranno evacuati. Ma non ci faremo sicuramente fermare da una voragine. Sono ancora in corso le verifiche per appurare l'entità dei danni e capire se c'è la possibilità di ulteriori ricrolli. Una sfida di modernità per il Liceo Gaetano De Botti, seditore del Greco, che a partire dal prossimo anno introdurrà l'indirizzo archeologico e l'indirizzo di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Qual è l'offerta formativa dell'anno 2021-2022? Il nostro Liceo rappresenta sul territorio un grande punto di riferimento culturale e questo ci obbliga e ci fa sentire responsabili di dare un'offerta formativa sempre attenta a quelle che sono le richieste dei giovani. Abbiamo introdotto in via sperimentale, ma adesso possiamo dire ormai consolidato, perché al terzo anno, il percorso di curvatura biomedica, dove in questi tre anni abbiamo avuto una grande risposta del territorio. Abbiamo quest'anno istituito due corsi di indirizzo biomedico e abbiamo instaurato anche protocolli di intesa con l'Università Banvitelli con il Dipartimento di Medicina e Precisione. C'è stato un grande entusiasmo da parte delle famiglie rispetto a questo indirizzo. Per l'anno prossimo il Dipartimento di Storia dell'Arte e grazie all'entusiasmo, all'impegno dei docenti di Storia dell'Arte, si è pensato di introdurre due nuove curvature. Una curvatura per il liceo classico tradizionale con appunto questa curvatura archeologica e per il liceo linguistico una curvatura a tutela dei beni culturali. Illustrata dalla dirigente, vista anche le difficoltà dovute alla pandemia, la modalità del prossimo Open Day che quest'anno sarà digitale. Appuntamento per sabato 16 e domenica 17 gennaio sul sito del liceo. Rappresenta una nuova sfida per il liceo, una sfida che il liceo non può fermarsi a quello che erano gli indirizzi tradizionali, una sfida di modernità e di linguaggi nuovi che riusciremo in parte anche a soddisfare le richieste del territorio. Abbiamo intercettato una tendenza abbastanza nuova che si sta vedendo in Italia, in alcune regioni, in Toscana, in Lazio abbiamo notizie di licei classici ad indirizzo archeologico. abbiamo preso spunto da questa tendenza che mette in collegamento due discipline sorelle, cioè l'archeologia e gli studi classici in generale, ma abbiamo pensato però di estendere questa offerta ad un piano più ampio, dare una curvatura più ampia a questo interesse e ci siamo rivolti verso i beni culturali in generale. È necessario che i giovani comprendano che i beni culturali sono una piattaforma, uno strumento di lancio anche lavorativo e di impiego. Un percorso quinquennale che partirà già dal biegno con due ore settimanali. Per quanto riguarda il triennio, avere anticipato lo studio della storia dell'arte significa poter aprire questa disciplina ad apporti nuovi che vengono dal mondo proprio della tutela e della valorizzazione. Quindi museografia, iconografia, restauro, scavo archeologico sono tutte possibilità di approfondimento che si danno ai ragazzi attraverso questo sviluppo quinquennale della disciplina. L'offerta formativa tra l'altro prevede che una delle due ore aggiuntive sarà svolta in compresenza con la docente madrelingua, questo sia per l'indirizzo classico che per quello linguistico. Ovviamente anche questa rappresenta una sfida per quanto riguarda l'indirizzo linguistico perché la valorizzazione passa anche attraverso le lingue ovviamente e per quanto riguarda il classico perché c'è la possibilità di utilizzare la metodologia CLIL e l'apporto del docente madrelingua per un potenziamento anche delle competenze tecniche, dei linguaggi tecnici in lingua straniera. Riparte il cammino in campionato della Turris che sarà impegnata nella trasferta dello stadio San Nicola di Bari nel primo match del 2021. I ragazzi di mister Franco Fabiano cercheranno di riprendere così come terminate il 2020 con la vittoria nel derby contro la Cavese. Non un impegno facile per i corallini che affrontano la compagine pugliese su un campo sicuramente ostico. La squadra della famiglia dell'Arenti si è alla ricerca dei punti importanti per dare la calcio alla capolista solitaria a Ternana, ma la Turris in questa stagione a precedenti trasferta che lasciano ben sperare come i pareggi contro Ternana e Foggia e la vittoria a Renzo Barbera di Palermo. Proprio la sfida con il Bari rieveca dolci ricordi per la piazza, seppur la squadra di Torre del Greco non ha mai vinto in casa dei Galli. In quattro precedenti infatti sono tre le sconfitte in un solo pareggio per 0-0 nell'ultimo incontro disputato nel 2018. A dirigere il match sarà l'arbitro Federico Longo che ha già arbitrato i corallini in occasione del 2-2 in trasferta da Avellino dello scorso 28 ottobre. Intanto in questi giorni è ripartito anche il calcio mercato. La squadra offre già garanzia al tecnico Fabiano, ma il direttore dell'area tecnica Rosario Primicile resterà sugli attenti per eventuali occasioni di mercato. Non mancano le sirene per i calciatori che hanno ben impressionato in questa prima parte di campionato, ma la volontà è quella di rimanere compatte in vista dei prossimi impegni, cruciali per capire le ambizioni della squadra. Tra calcio e mercato parte il 2021 della Turris, nella speranza che sia un anno ricco di soddisfazione per i tifosi. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciola tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. Grazie e buon weekend! Grazie a tutti! Grazie a tutti!